Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul nostro canale. Come accade spesso, purtroppo iniziamo i video dicendo buongiorno, ma c'è poco da dire buongiorno, perché per la seconda sosta consecutiva scoppia una grana in casa Juve, sorridiamo per sdrammatizzare, parliamo del caso Nicolo Fagioli scommesse. Io intanto prima di iniziare, proprio per sdrammatizzare, ti faccio una battuta, visto che tanto ne parleremo anche dopo, ieri c'è stato l'evento al Palà, al Pitur, io Davids l'ho visto in grande forma, visto che siamo messi abbastanza male a centrocampo, almeno potenzialmente, io lo tratterrei a Torino e poi vediamo. Comunque scherzi a parte, ennesimo problema in casa Juve, poi quando sono queste cose Pogba, ma come lo stesso Fagioli, più che problema solo in casa Juve, ovviamente dispiace anche umanamente, perché poi ci sono tutti i procedimenti, ora ne parliamo, però penso tu sia d'accordo con me che poi dietro c'è anche spesso un disagio emotivo, no? Dietro certe situazioni. Assolutamente sì, è più, alla fine se ci pensiamo, più un problema del giocatore stesso, no? In questo caso di Pogba, la squadra ovviamente ne risentirà perché, come ci diciamo sempre, quelli siamo. Quest'altra mancanza, poi ci arriviamo dopo, come hai già detto tu, ci fa mancanza. Al momento ancora è presente nella rosa, quindi può giocare. Poi infatti verranno dopo, però comunque di testa non penso sia così libero. Ma infatti sì, poi arriviamo anche a quello, perché poi al di là, ora ne parliamo un attimo, proviamo a spiegarvi quella che è la situazione, però poi bisogna vedere come sta Pogba Gioli di testa e se è pronto andare in campo, perché poi queste sono cose molto delicate e che ti, no? Ti fanno perdere un po' la bussola. Allora, sì, partiamo da alcuni chiarimenti. Innanzitutto ragazzi, l'indagine su Fagioli è aperta, è aperta da un po', anche se è venuta fuori oggi questa cosa, essendo aperta, bisogna aspettare qualsiasi ovviamente tipo di giudizio e quindi nel frattempo chiediamo subito, lui può continuare a giocare anche per questo. Non c'è un rivia giudizio per dire che non gli consente di scendere in campo, quello inibisce momentaneamente, no? Poi ora bisogna vedere perché torna in campo il procuratore Giuseppe Chinè, che tanto bene conosciamo e quindi bisogna vedere poi se questo procedimento verrà archiviato, se Chinè stesso possa ravvisare degli elementi che fanno andare avanti l'indagine. Ripeto, può chiudersi anche con un'archiviazione in questi casi, per quello stiamo attenti, non tiriamo somme, non diamo colpe al ragazzo perché può essere anche che sia innocente, purtroppo in Italia c'è sempre un po' questa tendenza che già che sei indagato vuol dire che sei colpevole, quindi staremo a vedere, però va detto che la situazione è molto delicata perché da un momento all'altro può avere delle svolte, può esserci davvero in questi casi o tutto o niente. Sì, ci può essere un patteggiamento, però qualora fosse provata la colpevolezza di Fagioli, ragazzi qua si parla di una scolifica non inferiore ai tre anni, che non voglio dire carriera finita, anche perché è giovane, però... Carriera finita no? Eh dipende poi da tante cose, no? Perché tre anni fermi. La testa, la testa comanda sempre, quindi c'è poco, bisogna sempre vedere come uno reagisce a queste cose, è una situazione come detto tu, delicata, quindi boh, non so come andrà a finire onestamente. Sì, poi guarda, ti specifico una cosa che è una cosa che non ho capito, perché poi bisognerà approfondire anche quello, è quanto possa pesare sul giocatore il fatto che, almeno al momento, l'indagine si basa su scommesse su piattaforme illegali e non legali, quindi questo non credo sposti tanto da un punto di vista sportivo, sinceramente, però ecco, visto che volevamo spiegare un po' la situazione, vi spieghiamo anche che le piattaforme illegali sono quelle non AAMS, quindi non riconosciute, diciamo, dal monopolio di Stato che non possono operare in modo legale in Italia, in quanto appunto manca questa licenza conferita proprio dallo Stato. Questo non so quanto può influire. No, al momento non sono state citate, cioè non è all'interno di calcio scommesse, cioè almeno al momento, quindi questa cosa magari la precisiamo. Sì, sì, sì. Anche se la mano dal fuoco io non la tolgo, perché, cioè la tolgo, scusa. No, no, no. Quindi perché tutto può succedere, alla fine sia solo all'inizio, anche se l'indagine c'è da un po' di tempo, però le notizie stanno emergendo ora, che poi sappiamo che magari un po' di mesi fa è un po' fuoriuscita questa notizia, noi ci abbiamo creduto e non ci abbiamo creduto. Poi oggi ci sono arrivate conferme, quindi penso sia tutto veritiero, poi non so. Però io per quanto riguarda il calcio scommesso oggettivamente tendo a evitarlo, anche perché l'indagine... No, no. No, hai fatto benissimo a specificarlo, però l'indagine non è incentrata su quello, quindi non è che Fagioli è sceso in campo per dirottare risultati. No, no, assolutamente. Per essere più chiari. Va detto che purtroppo, per fortuna, come volete voi, da questo punto di vista la giustizia sportiva è molto severa, c'è l'articolo 24 di codice di giustizia sportiva che vieta le scommesse legate al calcio per i calciatori e per i dirigenti, poi quindi la situazione è verosimilmente questa. Un'altra riflessione piccola da fare è che qualche giorno fa lui aveva messo una storia particolare, no? Dopo la vittoria... Presidenza. Presidenza, sì, che lasciava un po' presagire al fatto magari che non ha giocato e quindi ce l'aveva, tra virgolette, col mister, non lo sappiamo. Può essere anche questo invece, però arriviamo anche a questa valutazione qui perché più o meno la situazione l'abbiamo inquadrata e ripeto, aspettiamo che l'indagine faccia il suo corso e comunque fino a quando non sarà colpevole o non sarà reputato innocente, ovviamente non vogliamo dare giudizi sulla persona e sulla situazione, era giusto per spiegarmi un po' il tutto, però credo che tu sia d'accordo, siccome questa voce era già girata, come hai detto tu prima, cioè se forse non è stato impiegato così tanto non era solo perché Allegri ce l'avesse con fagioli o sbaglio? Ma guarda, io mi sento di dire perché sinceramente pensare che Allegri non mettesse fagioli perché, partiamo dal presupposto, lui non ha svolto al cento per cento la preparazione atletica e quindi questo è già un fattore. La seconda cosa è la l'anno scorso, perché c'è gente che dice Allegri non può vedere fagioli, l'anno scorso fagioli è quasi sempre stato titolare negli undici di Max Allegri, quindi già escludiamo un'altra cosa. Poi la domanda che ci facciamo è, per questo motivo anche, oltre alla preparazione atletica, fagioli è uno che è di testa un po', no? Cade, vediamo, ci ricordiamo un po' del gol preso tra virgolette per colpa sua contro il Sassuolo, piangeva in panchina, quindi mentalmente è molto fragile, possiamo dirlo, penso. Quindi magari questa cosa non lo fa allenare bene, Allegri non lo vede al cento per cento in allenamento, concentrato e quindi magari non lo vede pronto per metterlo in campo. Può essere questa cosa? Cioè, questo dico io. Certo, poi comunque sappiamo che Allegri, soprattutto con i giovani, ha anche un atteggiamento paterno, no? Quindi anche per tutelarlo sotto certi punti di vista capisce la situazione del ragazzo e magari lo tiene fuori. Detto ciò, credo che ad oggi possiamo dire che una buona componente c'è, perché credo che comunque a prescindere da quanto sia, diciamo, fragile o quanto ancora sia in parte, no? Cioè, paga degli errori più, ha poca esperienza, perché giustamente giovane, soprattutto a certi livelli, va detto anche che queste situazioni sono più grandi di chiunque altro e quindi è chiaro che perda lucidità e perda tranquillità. Ora ti dico, vediamo un attimo come si svolge il tutto, la Juve, sottolineiamo anche questa, è ovviamente informata dell'indagine su fagioli, certamente, però ora è davvero anche il momento, proviamo a andare un po' più in là, perché comunque almeno su fare dei ragionamenti, perché come dicevo prima, la prima sosta Pogba doping, la seconda fagioli scommesse, credo che, la terza, grattiamoci perché fra un mese c'è un'altra, giunto l'ora deve iniziare un attimo a guardarsi, diciamo, intorno per un mercato invernale a centrocampo, perché, ora, magari va a finire bene con fagioli, però uno deve sempre prepararsi al peggio, poi a quel punto davvero resteremo Locatelli, Rabiot-Miretti e McKennie se lo vogliamo mettere anche se spesso fa l'esterno, non un centrocampo da sogno, non un centrocampo completo. Un centrocampo fatto per poter vincere lo scudetto, non questo qua. Certo, però tu dimentichi spesso che Allegri che non lo vuole vincere lo scudetto. Esatto, anche questa cosa è vera, quindi lui sarà sicuramente felice dell'assenza di fagioli, in modo tale che non lo vince, cioè, non siamo neanche lì a lottare per vincerlo, per cercare di vincere. No, c'è, infatti. Vado alle ciance, sinceramente, perdere anche fagioli, perdere anche fagioli, non lo sappiamo, però dato che siamo sempre abituati al peggio e non al meglio, in questo periodo storico, ti dico che, a prescindere da lui, come abbiamo sempre detto, un tassello con l'assenza di Pogba al centrocampo ci vuole. Ora, dovesse andare male anche questo processo e fagioli verrà magari squalificato, beh, penso che, cioè, se non è obbligatorio così, non penso che si metta mano di nuovo alla next gen, prelevando qualcuno, poi che dobbiamo fare? Allora, giochiamo direttamente in Lega Pro. T'ho detto, teniamoci Davids a Torino, perché ieri mi è sembrato in forma. No, ma l'ho anche bravo, onestamente. Sempre se la spazio, però. Però ti dico, c'è, il discorso è comunque da fare sul mercato, a prescindere da tutto, perché poi non sappiamo fagioli come ne uscirà mentalmente in generale. Non sappiamo quanto può essere lunga questa indagine, quindi secondo me è giunto lì al momento, si sta guardando intorno. Per forza, per forza, per forza. Poi, niente, io anche in chiusura di video, diciamo, mi soffermerei su un fatto e quindi visto che queste, come dicevamo all'inizio, sono dinamiche personali e anche, diciamo, di debolezze, di... sono problemi personali, cioè io sono veramente vicino a fagioli, perché poi è sempre facile giudicare negativamente le persone, però chi non sbaglia nella vita e chi non incappa in periodi, no. E dispiacerebbe tantissimo, questo lo deve pensare ogni tifoso, anche italiano, perdere il centrocampista più bello che stesse, più bello da vedere, più forte che stesse nascendo tra i giovanissimi, diciamo, tra i millennials, sarebbe un gran peccato, soprattutto se parliamo di tre anni, ripeto, ragazzi, sarebbe veramente un dispiacere. E ora, guarda, mentre stiamo registrando questo video ci sto pensando un po' di più e sarebbe veramente una batosta, sarebbe veramente un peccato, quindi, non so, vediamo un attimo, tanto poi noi quando sapremo qualcosa in più vi aggiorniamo. Se avete altre domande, fatecele nei commenti, noi comunque vi rispondiamo. E niente, che dire. Comunque, ripeto, attendiamo novità, vediamo anche come sta a fagioli, perché al momento può giocare, però, ecco, Juve-Milan, sappiamo già che a centrocampo sarà molto dura, però, vabbè, di questo poi ne parleremo, dai, facciamo così. Niente, non so se l'hai detto, ricordiamo comunque sempre di lasciare un like a questo video e di iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto, anche perché ci stiamo un po', cioè, siamo sul pezzo, penso, no? Siamo sul pezzo, sempre di più, io sono tornato nella mia location che siete abituati a vedere, quindi, ragazzi, seguiteci e mi raccomando, fino alla fine, sempre Forza Juve, anche in questi momenti, in queste annate che sembrano non finire mai, una più no dell'altra. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao, ragazzi.